Gli uomini del comando provinciale di Reggio Calabria, unitamente a funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ufficio antifrode di Gioia Tauro, hanno individuato e sequestrato un altro ingente carico di cocaina purissima. Il quantitativo di stupefacente pari a oltre 173 chili è stato rinvenuto occultato all'interno di alcuni borzoni nascosti in un container che trasportava pectina, un composto estratto dalla frutta che trova impiego nell'industria alimentare, soprattutto nella realizzazione di marmellate e confetture proveniente dal Messico e giunto nello scalo portuale di Gioia Tauro. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato con la vendita al dettaglio circa 36 milioni di euro. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato di Gioia Tauro.